Vedo cose proprio strane in questo mondo, anche perché i tifosi sono innamorati della propria squadra e penso che non sia il caso di reprimere queste giornate belle di sport. Io penso che i tifosi per qualsiasi squadra è il dodicesimo uomo in campo. Giocheremo la stessa maniera tutte le domeniche, col piglio giusto, con l'approccio giusto come è stata la partita di domenica. Noi non abbiamo né paura né timore di nessuna squadra, anche perché io, come dicevo in altre occasioni, questi campionati non è fatto di grossi fenomeni. Non vedo questi grossi giocatori che possono rompere l'equilibrio in qualsiasi momento della gara e noi ce la giocheremo su tutti i campi a viso aperto.